Ciao ragazzi, sono Gastel e oggi parliamo delle Dex Furis, un altro regalo della Die. Iniziamo! Andiamo avanti con la serie dedicata alle Dex. Vi avviso già, sappiate che quando uscirà la Dex d'Akra vi porterò anche quella nonostante saremmo in mezzo al pieno flusso del Duviri Paradox. Non perché non mi attiri questo update, anzi, perché ci sta una coccola ai primini di Warframe e a queste armi targate Dex nascono proprio per questo. Ma non solo, possiamo portare effettivamente le Dex Furis in Steel Path? La risposta non è semplice, diciamo un sì ma approfondiamo. Ma come sempre, prima di iniziare consigli per gli acquisti. Se non siete iscritti iscrivetevi al canale, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, seguitemi sui social, iscrivetevi al Discord ogni martedì sera, ci vediamo live su Twitch. Ottenere la Dex Furis, così come le altre Dex in gioco, tranne la Pixia che sono armi esclusive di Titania, è molto molto facile. Ogni anno dal 2016, intorno alla fine di marzo, inizio di aprile, cade il compleanno di Warframe e di conseguenza vengono attivati i doni di Lotus, ovvero delle missioni in cui dobbiamo andare a recuperare elementi, armi, estetiche, glifi, tutto a tema Dex, quindi a tema festeggiamenti del compleanno di Warframe e in più abbiamo varie utilità in gioco che sicuramente non guastano. Quest'anno per recuperare le Dex Furis dovremmo affrontare una difficilissima missione di sterminio 10-15 sulla terra contro i Greeneer. E sì, sono volutamente ironico perché queste missioni sono una scusa per farvi giocare per non mandarvela direttamente nel vostro inventario, visto che per fare uno sterminio a questo livello potete davvero andare anche solo con una sentinella e basta. Conclusa la missione, come sempre riceveremo una simpatica mail da Lotus che ci consegnerà le Dex Furis. Compresa di catalizzatore e di slot inventario. Consiglio per tutti, se già ce l'avete, fate comunque la missione, vendete l'arma per crediti e ottenete uno slot inventario senza fare praticamente nulla. Le Dex Furis sono una coppia di Furis che magari avrete già livellato anche solo per pura maestria. Una coppia di secondarie quindi con fuoco automatico e sparo heat scan che in soldoni vuol dire che non c'è tempo di volo per il colpo. Sparo e arrivo addosso al nemico. Il ratio di fuoco è incredibile, quello che gli anglofoni chiamerebbero spray and pray, con però un ovvio difetto. Per quanto il caricatore sia ampio, non è mai abbastanza ampio. Sbirciando le caratteristiche dell'arma cruda senza alcuna mod installata abbiamo ovviamente fuoco automatico, come abbiamo appena detto. 20 di cadenza di tiro è semplicemente troppo. Nella top tier delle doppie pistole e delle secondarie in generale, ma nella top tier di tutto. Caricatore da 100, 500 munizioni massime e 600 raccolte. Parecchie direte voi? In realtà no. L'unica vera enorme pecca di quest'arma è proprio questa. Con un fuoco automatico e 20 di cadenza di tiro vi assicuro che le munizioni saranno il vostro peggior nemico. Quindi piccolo consiglio, ok spray and pray, ma cercate di focalizzare su brevi raffiche di sparo perché più di una volta, soprattutto quando la builderemo bene, vi capiterà di sparare a un nemico e vederlo cadere mentre in realtà lo state riempiendo di danni, effetti, tic e quant'altro quindi potreste semplicemente passare al nemico successivo e risparmiare un po' di munizioni. Precisione 15.4 Che non è tanto, ma per il tipo di arma che è va benissimo. La maggior parte dei colpi andranno a segno e saranno comunque troppi nel bersaglio per preoccuparsi di quelli persi. La predisposizione Riven è semplicemente favolosa. 5 pallini 1.39 Se avete la fortuna di beccare una Riven per quest'arma e vi piace, non esitate a spenderci un po' di cuva per renderla valida. Le statistiche sono al top. Lo so, di cui sempre non stiamo parlando dell'arma più meta del gioco, ma non è bello ciò che è bello. È bello ciò che è un rateo di fuoco impossibile a zero ai nemici. Due secondi di ricarica non sono tantissimi. Si sentono principalmente perché, tenendo premuto il tasto di sparo, svuotiamo il caricatore in praticamente 5 secondi. In ogni caso, come ho già detto, non è una strategia di gioco che consiglio, ma sappiate che è per quello che sembrano davvero tanti. In realtà non sono così tanti come sembrano. Parlando dei danni, l'effetto è abbastanza buono. Se ce la giochiamo fuoco, cosa che consiglio a tutti i livelli, può diventare molto interessante. La probabilità di critico, al contrario, lascia un po' a desiderare e, sinceramente, non sperate nelle varianti prime di quest'arma, siamo sempre lì. Molteplicatore accettabile, assolutamente nella media, solito pacchetto di danno IPS con priorità alla perforazione, danno complessivo piuttosto bassino, ma visto il tipo di arma, mi aspettavo niente di diverso. Per capirci, le Tenet Diplos fanno meno del doppio del danno, il succo è che dobbiamo riempire il limite dei colpi. In aggiunto a questo, arma di maestria 10. Non alta, non bassa, ma nonostante sia un tocca sana per i principianti, ci toccherà di sbloccare l'exilus, in caso contrario usarla può essere davvero complesso. Le forme, per chi comincia, sono giuste. 3-4 forme dovrebbero bastare. So che non sono poche per chi magari sta iniziando adesso a giocare, ma vi posso dire in piena sincerità che non sono neanche tante. Infine, per la categoria, chicche, ormai è un must, una piccola perla sulle Dex Furies. Quando è uscita in gioco, il fuoco dello sparo era viola. E basta, non potevamo cambiarlo, proprio perché è una Dex, proprio perché è Lotus, proprio perché è un regalo della Die, eccetera, eccetera, eccetera. Poi però hanno pensato, probabilmente, ragazzi, Warframe, dobbiamo far personalizzare tutto quello che si può personalizzare, quindi adesso possiamo colorarlo come ci pare, cambiando il colore dell'energia. Arriviamo a parlare della build. Come sempre partiamo da una build basic per i nuovi arrivati, per i nuovi giocatori, perché ha aperto Warframe e ha detto, wow, c'è una missione a carregare un'arma, presto, facciamola. Questa è una build, in realtà molto, molto semplice. Prima cosa da sottolineare, qui in alto deve esserci scritto 60, se non c'è scritto 60 avete un problema. Normalmente, con le armi basic, appena le costruiamo, c'è scritto 30, e per portarle a 60 dobbiamo installare questo, che è un catalizzatore Warframe che possiamo ottenere in vari modi attraverso il gioco, ma la peculiarità delle Dex Furies è che arriva direttamente con catalizzatore e con slot inventario, quindi dovrebbe già essere installato. Al contrario, invece, questi bei colorini verdi che vedete in alto, a destra, sopra i numeri, sono forme e quelli ci toccherà di metterli, perché quest'arma ne è praticamente sprovvista. Per mettere la forma, banalmente, polarizzazione, e andiamo a mettere quella che ci piace di più. Consiglio per chi è la prima armi, V. Su questo tipo di armi, sulle secondarie in particolar modo, una V funziona sempre bene. Anche due, anche tre, a dire il vero, per quest'arma, perché molte delle mod che andremo a mettere saranno polarizzate in questo modo, mettendo la polarizzazione uguale a quella presente sulla nostra mod, andremo a dimezzarne il costo, il che non è niente male, perché ci permette di riempire tutti quanti gli spazi mod a disposizione. Parlando quindi della build, di come andare a costruire un'arma, abbastanza letale da poter gestire con questa configurazione, oserei dire addirittura le incursioni. Ma guardiamo nel dettaglio. Prima, Hornet Strike, più danno, nudo, crudo e semplice. È pesantina, è pesantina come tutte le mod di danno da maxare, quindi da riempire di endo e caricare tutti quanti i pallini che vediamo in basso. Se non ce la fate, piuttosto maxate tutte quante le altre, questa lasciatela con qualche pallino dall'alto. Funzionerà lo stesso, almeno per iniziare. Seconda statistica importantissima, sparo multiplo. Sparo multiplo, come dice la didascalia, il numero di istanze di danno sparate per colpo senza consumare munizioni aggiuntive. Ogni stanza di danno ha la possibilità di applicare colpi critici e effetti. Questo vuol dire che un colpo sparato corrisponde a 2,8 proiettili, quindi due sicuri e un terzo che potrebbe avere un 80% di saltar fuori. Ma ognuno di questi colpi avrà effetto moltiplicatore del critico e probabilità di critico, nonché tutto il set di danni. Non è davvero niente male. Per puntare su questa statistica ci vuole Paral Diffusion, 120% di sparo multiplo. Non è facile da trovare, ve lo dico già. Ho fatto un video completo dedicato a dove trovare le mod più utili all'interno del gioco, ve lo metto in descrizione. In ogni caso, una volta trovata, questa è veramente favolosa. Altra mod che funge ugualmente allo scopo, Lethal Torrent, sparo multiplo e cadenza di tiro che su quest'arma, che cosa ve lo dico a fare, è semplicemente favolosa. Passiamo da un 20 a un 32 di cadenza di tiro, quindi massimo proiettili al secondo, 32. Sono tantissimi ragazzi, sono veramente troppi. Una volta completata questa parte, ovvero il multishot, passiamo a pompare un po' il critico. Come ho detto, non è la miglior statistica di sempre, anzi, forse non è così efficace pomparlo, ma in ogni caso arriviamo ad avere un 30% abbondante che, nel caso in cui i procchi, è comunque un vantaggio. Per quanto riguarda il critico, abbiamo due mod solitamente, Target Cracker e Pistol Gambit, rispettivamente per aumentare il danno critico e la probabilità di critico. Qual è il problema? Pistol Gambit fa abbastanza schifo, di base. Non è la miglior mod che possiamo andare a mettere. Quando parliamo di critico, se avete mod, avete iniziato a fare le stanze su Deimos, potreste pensare a un Creeping Bullseye. Creeping Bullseye non è una scelta così sbagliata, perché abbiamo visto che la cadenza di tiro è l'unica cosa di cui non preoccuparsi su quest'arma, e mettendola andiamo a comunque 28, che è di più della cadenza di tiro base dell'arma, perché abbiamo Lethal Torrent che ci bilancia, e arriviamo a un 42%, che ripeto, non è favolosa, ma non fa neanche schifo. Quindi questa è sicuramente una buona alternativa. Target Cracker è la best in slot. Resta sempre comunque la best in slot, perché l'alternativa di mod che si chiamano Corrupted, cioè con un vantaggio e uno svantaggio, è comunque del 60%, esattamente come Target Cracker. Non mi sembra una buona scelta. Infine, andiamo a parlare di effetti. La scelta migliore che mi sento di consigliarvi è una combinazione di mod di casi 60-60. In questo caso guardiamo Jolt, 60 vuol dire elettrico, e l'altro 60 è la probabilità di effetto che questo danno elettrico arrivi. Mettendone più di uno andiamo a creare dei danni combinati. In questo caso vedete Jolt e Pistol Pestilence, quindi elettrico e tossina, che vanno a creare danno corrosivo. Se non volete scegliere questa scuola, se non avete fondamentalmente qualcosa che vada a applicare il virale, che è uno dei danni migliori anche a inizio gioco, vi consiglio di cambiare Jolt con Frostbite per andare a creare per l'appunto danno virale. È sicuramente un ottimo investimento e soprattutto è un po' più semplice perché Frostbite la troviamo abbastanza facilmente, Pistol Pestilence è un po' più faticosa, dobbiamo arrivare nel void a battere VOR, ma si può fare. Jolt è veramente una rottura di scatole perché Jolt la porta solo esclusivamente il baro. Forse si trova anche in gioco, mi dimentico sempre quale delle mod 60-60 da elettrico si trovano in gioco, ma comunque è impossibile da farmare. Meglio comprarla dal baro, è molto più facile, ma bisogna avere la fortuna di trovarla in quel momento. Quindi questa è comunque una buona alternativa. Altra simpatica idea, potremmo provare a sostituire questo Frostbite con Ice Storm. Sempre ghiaccio, quindi il risultato finale è sempre virale, tagliamo un pelino la probabilità di effetto, ma aumentiamo il caricatore a 140 colpi e quindi ci vuole un po' di più per arrivare ai due secondi di ricarica. È un'alternativa. La migliore? Forse no, ma resta comunque un'alternativa valida. Infine abbiamo uno slot vuoto. In questo slot vuoto io personalmente ho apprezzato molto utilizzare Scorch. Scorch 60-60 da fuoco. Attenzione a come mettete in ordine le mod. Gli effetti si leggono esattamente come leggiamo normalmente, da sinistra verso destra, dall'alto verso il basso. Quindi Jolt e Pistol Pestilence, elettrico e tossina, vanno a comporre il corrosivo. Mentre Scorch resta da solo. Se per sbaglio le metto al contrario, otteniamo una combinazione completamente diversa, perché otteniamo tossina e radiazione, dove radiazione è fuoco ed elettrico e questa è la tossina che sta da sola. Quindi mi raccomando, mettetele nell'ordine giusto. Dicevo Scorch è molto interessante, perché oltre a dare un altro 60% di probabilità di effetto e portarci al 78%, che è molto molto valido, abbiamo comunque il danno da fuoco, oltre al virale, oltre a tutto il pacchetto IPS, quindi impatto, perforazione e taglio. Sicuramente una buona scelta. L'unica? Ovviamente no. Vi do sempre un sacco di alternative, perché magari non avete esattamente quella mod. Una mod interessante, Augur Pack. 90% di danno. Fine. È praticamente una versione ridotta dell'Ornet Strike. E in più al set Augur, quindi quando castiamo un'abilità, ci ritorna l'energia spesa come scudi, che non è decisamente male. In più la troviamo molto in fretta, perché il set Augur si trova direttamente su Cetus, che è il primo open world che andiamo a sbloccare. Altre opzioni interessanti riguardano il critico. Hydraulic Crosshair, dopo un colpo alla testa, 135% di probabilità di critico durante la mira per 9 secondi. È molto interessante, per quale motivo? Perché, al contrario di Pistol Gambit, che non possiamo mettere se teniamo Creeping Ghoulsai e viceversa, a Hydraulic Crosshair possiamo tranquillamente metterla. Unico problema che andiamo a vedere? Dobbiamo mirare. Magari non tutti apprezzano questa cosa, e magari non apprezzate lo zoom in particolare di questa arma, ma è qualcosa che può valere la pena considerare. Altra opzione, sempre per il critico, Sharpened Bullet. Dopo un'uccisione, 75% di danno critico durante la mira per 9 secondi. Stesso identico discorso dell'altra mod, ma questa volta per il danno critico. Quindi questa statistica qui. Valutatela voi. Personalmente ho apprezzato molto Scorch. È molto più semplice e molto più essenziale. Come dicevo all'inizio, sarebbe carino riuscire addirittura a sbloccare questo slot, che è l'Exilus, per un motivo molto semplice. Quest'arma ha una fame incredibile di munizioni. Quindi andare a metterci un bel pistol ammo mutation, che converte le munizioni raccolte per le primarie nel 50% di raccolta munizioni, non è assolutamente una brutta idea. Altra cosa che non è una brutta idea, il nostro amico Carrier. Il Carrier ha una mod molto utile, che è ammo case. Aumenta la capacità di munizioni del 25% e converte le munizioni inutilizzate in munizioni per le armi equipaggiate dopo due secondi. Non è decisamente male usare questo tipo di pet per darsi una mano. E se riusciamo a modarlo come si deve, può anche fare da primer per i nostri nemici, quindi andare a applicare gli effetti con Assault Mode, che attaccherà i nemici, e un'arma studiata a puntino. Ecco, questa forse non è la più facile di tutte da fare, anche perché l'idea di mettere una forma su un'arma di una sentinella magari farà storcere a qualcuno il naso, ma è una buona idea. Questa è una build abbastanza basilare per cominciare. Adesso è il momento di spingerla over the top. Quindi, build da Steel Path. Fondamentalmente la stessa build di prima, ma andiamo a sostituire qualche mod con qualcosa di un po' più aggressivo. Al posto dell'Ornest Strike, Galvanized Shot, 80% di probabilità di effetto e dopo l'uccisione, 40% di danno diretto per ogni tipo di effetto sul bersaglio per 14 secondi con 3 stack. Traduzione, Gundition Overload. Abbiamo molto più effetto, il che è molto comodo perché non useremo 3,60-60, ma soltanto 2. E in più, se riusciamo a mettere un primer sui nostri nemici, cosa che faccio con il carrier, è sicuramente un'ottima scuola per fare ancora più male rispetto a un classico e canonico Ornest Strike. Sparo Multiplo, Lethal Torrent resta esattamente dov'è. Andiamo solo ad aggiungere Galvanized Diffusion sul pacchetto. 110 di sparo multiplo, un po' di meno rispetto alla mod che avevamo visto prima, ma con gli stack dopo un'uccisione 30% di sparo multiplo per 20 secondi con 4 stack. Molto utile, molto interessante. Per quanto riguarda il critico, ovviamente Prime Target Cracker, la versione migliorata di Target Cracker, ci darà il 110% di danno critico. Per quanto riguarda la probabilità, ci sono due scuole. Quindi abbiamo Primed Pistol Gambit, che sono 187% di probabilità di critico. Punto. Pulite, chiare, attive sin dal primo momento in cui spariamo il primo polpo. Oppure Galvanized Crosshair, dopo un colpo alla testa, 120% di probabilità di critico durante la mira per 12 secondi. E fin qua. Siamo nella parte bassa, ma dopo un'uccisione, da colpo alla testa, abbiamo il 40% di probabilità del critico durante la mira per 12 secondi. E a 5 stack. Sulla carta funziona un po' meglio. Dipende sempre da come vi piace giocarla. Questo vuol dire che dovrete passare tutta la partita a mirare e a colpire la testa. Dipende dal tipo di missione, dipende dal tipo di giocatore, dipende come vi piace. A me piace molto come scuola e mi sembra anche molto efficiente. Se questa modalità non vi fa impazzire, se non è il vostro giro di vodka preferito, allora Primal Pistol Gambit. Facile e semplice. 187% di probabilità di critico. Punto. Per quanto riguarda gli effetti. Frostbite e Pistol Pestilence. Una buona scelta? Assolutamente sì. Le 60-60 continuano a restare un'ottima scuola. E il virale? Perché potrebbe non essere il più proccato dalla mia sentinella. Al contrario, ad esempio, di utilizzare un Panzer Vulpafilia che andrà a fare esattamente solo quello. Quindi sì, meglio il virale. Se non vi fa impazzire se usate il Panzer, come dicevo prima, esattamente come per la modalità precedente, possiamo andare a mettere un bel jolt e trasformarlo in un corrosivo per dare un set ancora più ampio di effetti sul nostro bersaglio e quindi incentivare il galvanized shot a fare più danno. Consiglio sincero? Evitate Carnist Stinger. Nonostante abbiamo sempre il 60 e abbiamo il 90 di taglio impegnandoci tantissimo. Comunque non superiamo tutto il resto. Non ne vale la pena. Anche solo in questo modo il taglio resterà a 4,6. Non ne vale la pena. Quest'arma non sfrutta il taglio. È inutile provarci. Per quanto riguarda l'ultimo slot opzionale, se prima ho messo Scorch, questa volta metterò Prime Deted Charge. 165% di danno da fuoco. Veramente fantastica, perché andiamo a mettere il fuoco sui nemici che sappiamo avere tantissimi vantaggi, il dot, il fatto che li sconvolga appena gli arriva addosso, insomma, tanti tanti bonus. Non abbiamo il 60% di Scorch ma abbiamo un 80% qui in alto del galvanizer shot, basta e avanza per tutto quanto. E inoltre è una delle Prime Ed ed è l'unica delle Prime Ed relativa agli effetti delle secondarie. Vale decisamente la pena. E ancora una volta miglioriamo anche l'ultimo passaggio. Non più il nostro pistol ammo mutation, ma Prime Ed pistol ammo mutation che converte ancora meglio, quindi nel 92% di raccolta munizioni, che per un'arma come questa che consuma veramente tante munizioni è un gran vantaggio. Infine parliamo di Arkane. Ovviamente prima non ne ho parlato perché i nostri giocatori alle prime armi non dovrebbero averci ancora accesso, ma gli Arkane sono una buona idea su questa arma, assolutamente sì. Ovviamente Merciless, Death Head funzionano sempre bene. Death Head in questo caso può addirittura funzionare nonostante il danno da fuoco ogni tanto vada a rubarci qualche kill. Comunque non è un'arma da taglio, quindi sì, possiamo farcela ad attivare questo stack ogni 24 secondi. È possibile. Abbiamo inoltre un danno aumentato, ok, un moltiplicatore sul colpo alla testa, ok, un po' meno rinculo che sicuramente non fa male su questa arma, anche se non è il problema più grave. Oppure possiamo andare con un banale Merciless, quindi 30% per 4 secondi con 12 stack e aumentiamo la velocità di ricarica. Sono tutte e due due scelte che posso appoggiare. Personalmente mi sono però divertito molto di più con Cascadia Flare. Avendo un ratio di fuoco così alto, gli effetti di fuoco verranno applicati a una velocità tale che il nostro 480% di danno aggiuntivo sarà sempre attivo. Non faremo un colpo senza avere questo bonus. Un bel vantaggio. Personalmente una buona idea. Vi consiglio di provarlo se non altro. Queste sono le Dex Furies. Sono molto divertenti. Escludendo tutto il discorso legato ai giocatori alle prime armi che si ritrovano con un'arma già catalizzata, con uno slot inventario, con 3-4 forme da mettere e già pronta per essere usata, magari non come unica arma del gioco, ma come accompagnamento a una buona primaria e una buona corpo a corpo, beh, sicuramente per loro è un vantaggio. Per i giocatori di livello alto è un'alternativa divertente perché alla fine riesce comunque a tenere il tiro. Ok, non stiamo parlando di un'arma top tier, non stiamo parlando di un'arma che può azzerare qualunque nemico, ma è divertente. E personalmente, apprezzando molto lo spray and pray come stile di gioco, beh, quest'arma è veramente gustosa da portare in giro. Chiaro, esistono alternative più valide, esistono soluzioni migliori per annientare i nemici in un solo istante, ma ogni tanto apprezzo divertirmi con qualcosa di un po' fuori meta e quindi giocare un po' con armi che non sono proprio il classico cliché del sono entrato in missione e ho distrutto qualunque cosa appena ho buttato un piede nella stanza. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto e che contenga informazioni utili e interessanti su questo contenuto. Se il video vi è piaciuto come sempre mettete i like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti. Seguitemi sui social e iscrivetevi al Discord ogni martedì sera. Ci vediamo live su Twitch. Ciao!